VANGELO DEL GIORNO Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde sulla strada, e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in un luogo sessoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliò, perché il terreno non era profondo, ma spuntato il sole, restò bruciata, e non avendo radici, si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona, e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta, chi ha orecchi in tenda. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero, perché parli loro in parabole? Egli rispose, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice, «Voi udrete, ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi per non vedere cogli occhi, non sentire cogli orecchi, e non intendere con il cuore convertirsi, e io li risani. Ma abbeate i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non lo dirono. Voi dunque intendete la parabola nel seminatore. Tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione nel mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende, questi dà frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta. La lettura del Vangelo del giorno è offerta da www.preghiere.eu Visita il sito per conoscere i suoi contenuti.